E' stata attivata la procedura per rendere esecutivo il rifacimento del porto di Gela. Non c'è ancora però la valutazione ministeriale del piano di caratterizzazione propedeutico al progetto di dragaggio per poi bandire la gara. E' quanto ha detto il responsabile unico del progetto e direttore della protezione civile regionale Calogero Foti durante l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palermo. Presenti il deputato regionale del PD, Peppe Arancio, promotore della riunione. Il gruppo di lavoro porto di Gela con il presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia, i consiglieri Enzo Cirignotta e Toto Scerra e i rappresentanti del comitato porto del golfo di Gela Antonio Adragna, Ascanio Carpino e Massimo Livoti. L'autorizzazione per la caratterizzazione delle sabbie del porto di Gela ancora si trova a ferma al ministero di Roma. Quindi se non daranno questa autorizzazione per poter iniziare i lavori di carotaggio per la caratterizzazione delle sabbie, siamo fermi e quindi non possono iniziare i lavori materialmente dell'escavo del porto. A Roma ci hanno detto che la commissione si siede quattro volte l'anno, quindi speriamo che ai primi di gennaio ci sarà una commissione e quindi daranno questa concessione, questa autorizzazione per poter fare le caratterizzazioni delle sabbie. Altrimenti siamo fermi qui ad aspettare, boh, chissà questa burocrazia così lenta. Dunque solo dopo il parere da parte del ministero dell'ambiente si potrà procedere all'avvio delle operazioni di caratterizzazione delle sabbie per poi indire il bando di gara per l'avvio dei lavori. La regione ieri e la protezione civile ci hanno detto che già hanno sollecitato queste autorizzazioni. Speriamo bene, chi lo sa, a questo punto non abbiamo più niente da fare, stiamo qui ad aspettare.